Unire i puntini, questo è il nuovo posizionamento di MSL Group, l'agenzia guidata da Daniela Canegallo che peraltro è stata recentemente coinvolta nel board di Publicis Group, unica donna di business a farne parte, board ricordiamo guidato da Vittorio Bonoli. Con lei oggi parleremo appunto del nuovo posizionamento che è sempre attento all'evoluzione del mercato, Daniela negli ultimi anni ha anticipato alcune tendenze come per esempio capire l'importanza dei dati anche nel suo mestiere, parleremo delle nuove acquisizioni di clienti, come sono avvenuti grazie anche al posizionamento che è andato delineandosi in questi ultimi mesi e soprattutto anche dei nuovi arrivi in termini di persone, persone che come vedremo avranno e hanno caratteristiche diverse dal mestiere tradizionale dell'uomo o della donna di relazioni pubbliche. Allora partiamo dal primo argomento, questo nuovo posizionamento unire i puntini, cosa significa? Mi sono resa conto e questo è un ragionamento che è cominciato diciamo l'anno scorso, che MSL poteva coprire un'area forse ancora non così pienamente conquistata da altri player, perché? Perché come accennavi noi abbiamo cominciato a investire sui dati di cui tutti oggi parlano nel 2010, quindi quando proprio non se ne parlava proprio e questo ci ha avvantaggiato perché oggi abbiamo un team di persone che si occupano di data science che è composto da dieci persone, quindi diciamo una bella squadra. Quando poi abbiamo cominciato a lavorare insieme al gruppo, sapete che appunto il trend, diciamo la vocazione di Publicis Group è quella di lavorare abbattendo i silos, lavorando come un unico team molto spesso. Noi abbiamo incontrato tutti i colleghi, per esempio quelli del media, c'è una divisione che si chiama Spine, in cui si analizzano, si creano tool, cito PeopleCloud che è stato già citato in altre interviste, che è il tool che ci consente di arrivare a un'identificazione del target proprio chirurgica. Bene, avevamo già persone, dicevo, che erano in grado di parlare lo stesso linguaggio degli altri colleghi, questo ci ha chiaramente molto avvantaggiato. Qual è l'altra caratteristica che abbiamo? Che facciamo da più di vent'anni attività di media relation, quindi siamo abituati a creare storie, a scrivere storie, a creare e a trovare il news angle perché queste storie diventino, come dire, più appealing sul mercato e ci possiamo mettere insieme il fatto che nel frattempo abbiamo cominciato a lavorare in maniera più creativa, nel senso che ormai le storie si raccontano molto attraverso le immagini, quindi abbiamo, e questo fa parte della trasformazione, cominciato a portare dentro talenti creativi che prima non esistevano. Questo perché? Perché pensiamo di poter appunto arrivare a creare quello che noi chiamiamo contenuto editoriale, siamo diventati l'editorial content hub del gruppo e cosa significa? Che quando arriva un cliente da noi, l'analisi che noi facciamo si basa, grazie ai nostri tool, su analisi di dati oggettivi, creiamo una storia e poi attraverso anche i colleghi del gruppo siamo in grado di distribuirla su tutti i possibili touch points. Cito i colleghi del gruppo perché abbiamo una divisione che si occupa di content distribution, una practice che fa questo, abbiamo Sapient che è, diciamo, la nostra società di consulenza all'interno del gruppo che quindi ci consente alla fine del funnel di capire come poi distribuire quei contenuti. Quindi ci capita che sempre di più il cliente ci chiami abbia magari già strutture di advertising, magari anche i nostri colleghi del gruppo, abbia già addirittura a volte un'attività, un'agenzia per l'ufficio stampa e noi diventiamo una sorta di editore. Cioè, appunto, facciamo in modo che i contenuti che andiamo a creare o quelli che sono già presenti all'interno dell'azienda stessa, perché ci sono aziende che producono tanto e non mettono in connessione quello che fanno. Noi creiamo un fil rouge, creiamo e usiamo i contenuti che già esistono o ne creiamo di altri per far sì che si aumenti la rilevanza della voce del brand sul proprio mercato. Con una visione strategica, un ruolo strategico più importante. Si ritorna un po' alle origini del mestiere, no? Sì, assolutamente. ci siamo riconquistati quella posizione di consulente strategico che avevamo all'origine del nostro mestiere, avvantaggiati dal fatto, devo dire, che tipicamente nel nostro mestiere si parla con i CEO e questa che citavo è una decisione solitamente che si prende appunto a quel livello, perché magari si decide di mettere insieme delle strutture che lavoravano separatamente, mettere insieme anche dei reparti che lavoravano in maniera asilos, come diciamo. Quindi spesso e volentieri noi mettiamo insieme le persone del marketing, le persone dell'IT guidati dall'amministratore delegato. Il fatto di avere questa apertura, perché arriviamo come consulenti strategici, ci avvantaggia. E altra cosa è il crisis management. Questo è un altro valore aggiunto che... Che aggiungiamo, sì. Diciamo che nella creazione di contenuti, rispetto ad altre strutture che creano, che esistono sul mercato e creano solo contenuti, noi abbiamo una expertise di crisis management da sempre, abbiamo da sempre lavorato su questo settore. Oggi la crisis è anche gestire una battuta sbagliata detta in un'intervista, o uno spot magari che potrebbe creare discussione. Cito il caso di Buondimotta, spot creato da Saci di qualche tempo fa, che aveva creato con l'asteroide che uccideva la mamma, una violenta reazione da parte delle cosiddette mamme pancine. E dietro c'eravamo noi. Cioè avevamo creato tutte le possibili domande, le possibili risposte, quindi avevamo una war room vera e propria e abbiamo, se vogliamo posso dire, creato il successo e contribuito al successo di quella campagna, perché il buzz che si è creato è stato tutto gestito da MSL. Quindi per concludere questo primo aspetto, questo primo argomento della nostra intervista, poi voi in gara con quali strutture vi trovate a competere? Perché avete un approccio appunto abbastanza ampio e non definibile. Beh sì, abbiamo un approccio che ormai fa sì che ci sia il caso in cui troviamo anche agenzie di RP, ma sempre di più troviamo piccole strutture di ADV che hanno un approccio molto rotondo, social company, web company e a volte anche strutture di consulenza. Prima di annunciare le importanti acquisizioni, vediamo qual è il contesto che ha portato a questo successo. Mentre appunto studiavamo e ragionavamo su questo posizionamento ci è capitato anche un colpo di fortuna, perché nella vita ci vuole anche quello, e cioè un cliente che era con noi per un'attività più classica, che è la più grande piattaforma di entertainment in streaming del mondo, ci ha chiesto di cominciare a parlare non soltanto attraverso i propri prodotti, che sono serie o film, ma con la propria voce, raccontare il loro pensiero rispetto a diversi temi. E con questo abbiamo vinto una gara insieme a B-Cube, in questo caso con il nostro collega del gruppo, per raccontare la loro visione del Natale. Da lì, l'anno scorso, da lì è stato l'inizio, perché sono stati evidentemente così soddisfatti di quello che abbiamo fatto che abbiamo cominciato a diventare, ci è stato affidato in toto la gestione di tutti i loro canali, di tutti i loro contenuti. Questo evidentemente ci ha dato una grande forza, perché un conto è immaginare un posizionamento, un conto poi è vedertelo riconosciuto da un cliente importante. Abbiamo capito che stavi parlando di Netflix, lo dico io, non tu, ma anche i telespettatori l'avranno sicuramente capito. Adesso annunciamo questi clienti. Sì, allora, abbiamo portato a casa dei successi interessanti nel frattempo. Abbiamo vinto la comunicazione per Riteli, che è stato in gara anche sulla parte creativa per un po' di tempo, è una compagnia nuova, interessante, di questo siamo molto contenti. Abbiamo poi vinto, e questo è un annuncio in anteprima, una gara in un settore molto interessante, che è quello delle scommesse, che come sai ha ultimamente un problema rispetto a non poter più utilizzare i mezzi che utilizzava prima. Ed è Eurobet, per cui ci sfideremo a raccontare un marchio così interessante, così importante, attraverso attività non di advertising classico, evidentemente. E' anche un'opportunità. No, per questo comparto c'è stato un timore molto elevato, perché sono risorse importanti che vengono tolte dall'advertising classico, ma per voi rappresenta un'opportunità interessante. È assolutamente un'opportunità, quello che tu dicevi, siamo poco definibili, siamo un po' liquidi, perché effettivamente andiamo a occupare quelle aree, quei settori che non sono dell'advertising classico, quindi sarà messa alla prova la nostra creatività su questo e siamo molto contenti. Un'altra gara importante è Spotify, che abbiamo vinto recentemente e anche questo ci rende molto contenti, perché raccontare un brand come questo su diverse piattaforme in maniera diversa è molto stimolante. e poi abbiamo avuto una gara interessante con un cliente molto tradizionale, diciamo un cliente che fino ad ora ha lavorato con noi diciamo in maniera tradizionale, che è Procter & Gamble. Non cito ancora il brand, ma abbiamo vinto una gara che ci vede protagonisti proprio utilizzando mezzi diversi dall'ufficio stampa. E mi piace citare due casi di clienti esistenti con i quali abbiamo creato qualcosa di nuovo e di diverso. Uno è Artsana, con il quale lavoravamo in termini di ufficio stampa già da molto tempo e abbiamo cominciato invece a creare i loro contenuti sui canali social. quindi questo è stato un allargamento di mandato. Un altro molto interessante è McDonald che condividiamo insieme a Leo per la parte di advertising e lì abbiamo creato contenuti particolari nell'area dell'employer branding, perché hanno bisogno di assumere persone e bisognava crearli contenuti che li rendessero ancora più appealing di quanto fossero per appunto giovani candidati. Che peso ha il digitale in tutto il giorno? Beh, oggi diciamo che facciamo il 40% del nostro fatturato sul digitale e crescerà. Penso proprio che, come si vede da tutti i dati anche di mercato, è l'area su cui si sta crescendo di più di fatto, quindi prevedo una crescita ulteriore. A proposito di crescita, anche le risorse umane aumentano, no? Ci sono stati importanti acquisti ultimamente? Assolutamente sì. Abbiamo assunto 11 persone dall'inizio dell'anno, ma non abbiamo ancora finito. Ne assumeremo altre. Quali caratteristiche? Allora, questo infatti è un annuncio che faccio così magari ci arrivano CV interessanti. cerchiamo persone che abbiano un po' la caratteristica che cerchiamo di avere noi, che siano un po' multisfaccettate, quindi dal punto di vista creativo che abbiano attitudine a lavorare su diverse piattaforme, ma così come social media manager che sappiano però fare anche altro, account che abbiano interesse a capire anche la creatività. Di fatto cerchiamo persone che siano un po' eclettiche. Bene, e quindi a questo punto non ci rimane che dare un bilancio un po' dell'attività di MSL. Siamo a metà anno, anzi un pochino di più. Che previsioni fai per questo 2019? Allora, sarà un 2019 che dal punto di vista della crescita si confermerà in lieve crescita, ma soprattutto molto molto profittevole. Quindi diciamo che il primo anno di trasformazione mi dà un bilancio positivo, 2020 mi aspetto grandi cose. Ecco, quindi contrariamente a quello che i freddi numeri dicono, in realtà è un periodo interessante. Guarda, assolutamente sì. Io voglio dare un messaggio di ottimismo a tutti perché le opportunità sul mercato ci sono. Stanno cambiando i parametri, stanno cambiando le richieste dei clienti, bisogna saper interpretare le richieste dei clienti. Credo che come gruppo lo stiamo facendo perché facciamo anche molte presentazioni dove mettiamo insieme diverse expertise, presentandoci come publicist group, mettendo expertise che non c'entrano niente l'una con l'altra, a prescindere dal brand e proprio andando a portare quello che il cliente può servire. Credo che questo sia l'approccio e le opportunità, a mio avviso, sono da andare a prendere. Bene, con questo è tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagone.